Il principe William si è insospettito Meghan Markle aveva un'agenda all'inizio della sua storia d'amore con il principe Harry, è stato affermato. Il biografo reale Robert Lacey ha detto che il duca di Cambridge aveva i suoi sospetti su Meghan fin dai primi giorni della sua storia d'amore con suo fratello minore. L'affermazione proveniva da una fonte vicina al futuro re, secondo il signor Lacey. Parlando nel documentario ITV Harry and William. What went wrong? Lo storico reale ha detto. Qualcuno vicino a William mi ha detto che William sentiva fin dall'inizio che Meghan aveva un programma. Punto punto. Nell'edizione aggiornata del suo libro Battle of Brothers, il signor Lacey fa nuove rivelazioni sulla spaccatura tra William e Harry. L'autore reale afferma che William era furioso per il trattamento spietato del personale di Meghan e l'ha chiamata quella donna insanguinata tra le accuse di bullismo da parte del personale reale, che lei nega. In precedenza è stato affermato che la spaccatura dei fratelli risale all'inizio della relazione di Harry con Meghan, quando William ha esortato il fratello minore a non affrettare le cose, parlando nel documentario di ITV. Andato in onda la scorsa notte, il biografo reale Penny Junor ha affermato che l'ex attrice Meghan stava sconvolgendo le persone fin dall'inizio. La Junor ha dichiarato. Sin dall'inizio sentivo storie molto brutte che Meghan stava sconvolgendo le persone. Non era così affascinante come sembrava. Kate e il principe William vengono spinti alla ribalta. Nel tentativo di riguadagnare popolarità per la famiglia reale dopo la partenza di Meghan Markle e del principe Harry, secondo un commentatore. La commentatrice Aisha Azzarika ha dichiarato. William e Kate vengono davvero spinti alla ribalta in termini di pubblicità. In particolare Kate Middleton. Penso che ciò che la macchina delle pubbliche relazioni per la famiglia reale e stia cercando di fare sia trasformare William e Kate nei nuovi Meghan e Harry. Stanno cercando di renderli un po' rock star.